L'avvocato Abdelaziz Esid, premio Nobel per la pace del 2015, componente del Quartetto per il dialogo tunisino, è intervenuto a Taranto ad un incontro svoltosi al Palazzo di Giustizia sul tema l'uguaglianza delle diversità. I miei colleghi italiani sono stati con noi in un momento difficile dalla storia della Tunisia dopo la rivoluzione. Voi sapete che c'era un attentato terroristico nell'albergo Imperial di Sus sulla spiaggia dove sono stati uccisi i turisti. Ebbene, quell'albergo è rimasto chiuso per due anni finché i colleghi italiani hanno deciso con una iniziativa meravigliosa di portare i 450 avvocati italiani in quell'albergo per la sua riapertura. Ecco una maniera simbolica ma forte per dire siamo con voi nella vostra lotta. L'evento è stato organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, preseduto dall'avvocato Alessandro Gigante. Gli avvocati che insieme dimostrano con la società civile che si possono cambiare le cose, o almeno ci si può provare. Mettersi da toga e andare di fronte con altri colleghi a un gruppo di persone armate di fronte a un esercito ci vuole molto coraggio. E questo è il coraggio che io vorrei venire trasmesso a questa città, il coraggio di poter cambiare. L'illustre ospite è stato poi ricevuto a Palazzo di Città dagli assessori Simona Scarpati, Fabiano Marti e Francesca Vigiano. Noi ci siamo sentiti obbligati e nonché onorati dalla presenza del Premio Nobel per la Pace proprio perché il messaggio di pacificazione e quindi di collaborazione interculturale è l'unica via per cercare di abbandonare questa strada che si sta intraprendendo di intransigenza nei confronti delle culture diverse.